Bobo Summer Cup 2017 all'interno del campo con Alessandro Alciado di Sky che prima già si è cimentato nella prima intervista della giornata poi comunque ce ne saranno altre senti un po' e football e oggi tante persone tanto divertimento tu comunque sei dell'ambiente per cui si poi sono molto contento perché la finalità è benefica si costruisce un campo con ricavato nelle zone terremotate il comune di viso quindi questa è una bella cosa e poi è tutto molto divertente basta vedere ieri anche quando non apre bocca lo guardi in faccia ti viene da ridere alle 16 tutti i giorni ce l'avremo in diretta su Sky Sport 24 può succedere di tutto quindi sì sto lavorando ma è bello lavorare così ecco certo che è il colmo io che intervisto il giornalista numero uno sportivo di Sky deve essere veramente una cosa un po' fuori fuori dal normale comunque senti dato un piacere avervi qui come troupe di Sky e quindi mi dicevi che oggi pomeriggio alle 16 ci sarà un altro momento con il collegamento in diretta sul canale 200 e anche domani sarete qua c'è un altro collegamento e poi oggi pomeriggio attenzione tantissimi ospiti attesi tu hai qualche indiscrezione su chi arriverà qualcuna a qualcuna diciamo che quasi sicuramente avremo in diretta Zvone Boban che è il numero due della FIFA ma soprattutto è uno che dice sempre quello che pensa e quindi è bellissimo intervistarlo Luca Toni campione del mondo Bobo Vierre l'abbiamo detto sarà una presenza fissa ai nostri microfoni quando ci saranno le giornate del torneo prossimamente Ronaldo e tu insomma gli ospiti non mancheranno mi sembrano tutti ospiti di grande livello ce ne sono giornata stupenda di sole e quindi che dire ci vediamo alle ore 16 con il prossimo collegamento di Sky e in campo alla Colabobo Summer Cup 2017 grazie ad Alessandro Alciado e ancora live su Radio Bruno ciao